Bella a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video. Oggi questo è il riassunto di Parma-Inter che si è giocata ieri sera. Parma-Inter, il Parma sta vincendo ma poi l'Inter ha fatto doppietta, ha fatto due gol a un quarto d'ora e dalla fine. Del Parma ha segnato Gervinio e dell'Inter De Frey e Bastoni. Hanno avuto due espulsioni, Kuzka all'84 e dell'Inter Tommaso Berni all'75. Questa è la sintesi della partita, meglio, dei gol anche, della Serie A Team sul canale. Questi sono, link in descrizione, queste sono le statistiche, ti riporto i totali 10-20, ti riporta così. Questa è la classica, l'Inter al terzo con 61 punti. Il nuovo pronostico era tra due e Inter. Per me ha avuto tant'occasione di Parma per segnare, ha pure segnato che all'ottesimo minuto. Ci vediamo al prossimo video, bella!